Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni, vieni a regnare tra noi. Gesù conquista tutti, vincino a un volere, affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere Gesù. Affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere Gesù. Gesù conquista tutti, nel tuo volere. Vieni, vieni a regnare tra noi. Gesù conquista tutti, Gesù conquista tutti. Dal libro di cielo, volume undicesimo, 30 gennaio 1916, capitolo 116. Stavo fondendomi tutta nel mio sempre amabile Gesù e mentre ciò facevo, Gesù venendo si fondeva tutto in me e mi ha detto, figlia mia, quando l'anima vive del tutto nella mia volontà, se pensa i suoi pensieri si riflettano nella mia mente in cielo, se desidera, se parla, se ama, tutto si riflette in me. E tutto ciò che faccio si riflette in lei. Succede come quando il sole si riflette nei vetri. Si vede in questi un altro sole, tutto simile al sole del cielo, con questa differenza, che il sole nel cielo è fisso, sta sempre al suo posto, mentre nei vetri è passeggero. Ora, la mia volontà cristallizza l'anima e tutto il suo operato si riflette in me. Ed io ho ferito, rapito da questi riflessi. Le mando tutta la mia luce in modo da formare in lei un altro sole, sicché pare un sole in cielo e l'altro in terra. Che incanto e quali armonie tra loro? Quanti bene non si versano a pro di tutti? Ma però, se l'anima non è fissa, nel mio volere può succedere come al sole che si forma nei vetri dove è sole passeggero, e poi il vetro rimane all'oscuro ed il sole del cielo rimane solo. Capitolo 117, 5 febbraio 1916 Continuo i miei giorni afflitta, specie per le minacce quasi continue da parte di Gesù che i flagelli si allargeranno di più. Questa notte poi sono rimasta terrorizzata, mi sono trovata fuori di me stessa e ho trovato il mio afflitto Gesù. Io mi sentivo a rinascere a nuova vita nel trovarlo, ma che? Mentre mi accingevo a consolarlo, varie persone mi l'hanno strappato e l'hanno ridotto in pezzi. Che crepa cuore, che spavento! Io mi sono gettata per terra vicino ad uno di quei pezzi, ed una voce del cielo risuonata in quel luogo. Fermezza, coraggio e pochi buoni, non si spostino in nulla, non trascurino nulla, saranno esposti a grande prove, da Dio e dagli uomini. La sola fedeltà non li farà traballare e saranno salvi, la terra sarà coperta di flagelli, non mai visti. Le creature vorrebbero disfare il creatore e vorranno avere un Dio a proprio conto e soddisfare i loro capricci con qualunque carneficina. E con tutto ciò, non avendo i loro intenti, giungeranno alle più brutte bestialità. Tutto sarà terrore e spavento. Dopo ciò mi sono trovato in me stessa. Io tremavo, il pensiero, come avevano ridotto il mio amato Gesù, mi dava morte. A qualunque costo avrei voluto vederlo un istante per vedere che ne era successo di lui. E Gesù, sempre buono, è venuto ed io mi sono pietato. Sia sempre. Benedetto. Capitolo 118, 2 marzo 1916. Continuo i miei giorni amarissimi, Gesù Benedetto scarseggia molto nel venire e se mi lamento o mi risponde con un singhiozzo di pianto oppure mi dice Figlia mia, tu sai che non vengo spesso perché i castighi si vanno sempre più stringendo, quindi perché ti lamenti? Ma però io sono giunto ad un punto che non ne potevo più e ho rotto in pianto. E Gesù per quietarmi e rafforzarmi è venuto e quasi tutta la notte l'ho passata con Gesù. Ed ora mi baciava, mi carezzava, mi sosteneva, ora si gettava nelle mie braccia per prendere riposo. Ora mi faceva vedere il terrore delle genti. E chi fuggiva da un punto e chi dall'altro. Ricordo pure che mi ha detto Figlia mia, ciò che io contengo nella potenza, l'anima lo contiene nella volontà. Sicché tutto quel bene che veramente vuol fare, io lo guardo come se in realtà l'anima lo avesse fatto. Onde io ci tengo volere e potere. Se voglio posso. Invece l'anima molte cose non può. Ed il volere supplisce al potere. E così si va assomigliando a me. Ed io vorricchendo l'anima di tutti quei meriti che contiene la sua volontà. La sua buona volontà e che vuol fare la sua volontà. Poi ha soggiunto. Figlia mia, quando l'anima si duona tutta a me, io vi stabilisco la mia dimora. Molte volte mi piace di chiudere tutto e starmene all'oscuro. Altre volte mi piace dormire. E l'anima metto come sentinella affinché non faccia venire nessuno a molestarmi e rompere il mio sonno. E se occorre devo affrontare lei le molestie e rispondere per me. Altre volte mi piace di aprire tutto e far entrare i venti. Le freddezze delle creature. I rardi delle colpe. Che mi mandano e tante altre cose. E l'anima deve essere contenta di tutto. Deve farmi fare ciò che voglio. Anzi, deve fare sue le cose mie. E se io non sono libero di fare ciò che voglio, sarei un'infelice in quel cuore. Se dovessi stare attento a farle sentire quanto godo. E nascondermi o malgrado quanto soffro. Sicché dove starebbe la mia libertà? Ah, tutto sta nella mia volontà. L'anima, se prende questa, prende tutta la sostanza del mio essere e rinchiude tutto me in lei. E come va operando il bene, tenendo in sé la sostanza della mia vita, fa uscire quel bene da me stesso. E uscendo da me, come raggio di luce, corre a bene di tutte le creature. Bene. Abbiamo alcune suggestioni molto importanti di Gesù. Alcune riguardanti la vita nell'involere. Nel secondo capitolo ci sono delle bellissime esortazioni e certamente da ritenere e da fare nostro anche delle parole pronunciate nel 1916 che poi la storia ha dimostrato come si sarebbero gradualmente compiute. Andiamo con ordine. Gesù dice un'espressione molto precisa. Quando l'anima vive del tutto nella mia volontà. Fa poi degli esempi, no? Quindi i pensieri di quest'anima si riflettono nella mia mente. Se desidera, se parla, se ama, tutto si riflette in me, tutto ciò che faccio si riflette in lei, facendo poi l'esempio del sole e dello specchio. E questo altissimo grado di unione con Gesù ovviamente presuppone un'anima che vive del tutto nella mia volontà. Bisogna sempre tenere... E questo del tutto evidentemente fa comprendere che l'itinerario di crescita nella vita di unione e di fusione con la Divina Venita è appunto un cammino per arrivare a queste alte conseguenze di questa vita che Gesù dice, così come ad alcune grosse promesse che Dio fa a chi vive nella Divina Volontà. È evidente che si dà per presupposto che si giunga fino a questi ultimi stati. Questo è un pochino come la vita, tante volte l'ho detto, un pochino come la vita interiore, no? La vita interiore si divide, insomma, in vita ordinaria e vita straordinaria. Tante volte che credo di averlo accennato, però chi vuole approfondire deve avere la pazienza di leggere il Castello Interiore di Santa Teresa d'Avila che è un'opera molto bella anche se abbastanza non complicata, però certamente richiede molta attenzione per essere ben compresa, no? Santa Teresa dice La stragrande maggioranza degli esseri umani, purtroppo, che lo vedremo dopo, nel secondo capitolo, il nostro Signore non se lo fila per niente. D'accordo? Pochissimi cominciano a pregare un po', altri vanno un pochino avanti nella preghiera, quindi giungono a meditare, altri ancora giungono alla contemplazione. E qui si parla ancora di cammino ordinario nella santificazione, perché un'anima contemplativa non significa che abbia visto la Madonna o avuto chissà che cosa di straordinario. Arrivati però fino a un certo punto, Santa Teresa spiega bene, questo è il massimo a cui si può giungere, diciamo così, in maniera ordinaria, quindi con una vita interiore fondata sulla grazia preveniente, coadiuvante e santificante, e sullo sforzo dell'anima che, e questo è il requisito per poter fare una vita di questo genere, anche ordinaria, decide fermamente di santificarsi ed è disposta a procedere con costanza e perseveranza qualunque cosa succede. Questo spiega Santa Teresa d'Avila. Dalla quarta, quinta dimora in poi, c'è una fase in cui cominciano le prime esperienze soprannaturali, che sono molto simili e non sempre ben percepibili da quelle ordinarie. Avviene nel passaggio da quella che lei chiama l'orazione di raccoglimento all'orazione di quiete. L'orazione di quiete è già un'orazione, come si dice, infusa, non più azionabile dalla buona volontà dell'anima pur sostenuta dalla grazia, ma un'orazione che Dio infonde, quindi se Lui te la dà, la vivi. Se non te la dà, non la vivi. Per quanto tu ti possa concentrare, per quanto tu ti possa raccogliere, per quanto tu possa concepire pensieri, devoti, affetti, tutto quello che vuoi, questa orazione viene dal cielo. Se Dio te la dà, bene. Se Dio non te la dà, non te la puoi dare da solo. È chiaro che per arrivare a questi livelli, diciamo così, se mi fasi il termine, bisogna avere percorsi precedenti. Quindi Dio non è obbligato a fare il salto di qualità a nessuno, però certamente l'aver percorso con fedeltà, costanza e perseveranza, con tutti gli sforzi possibili, quella parte del cammino dove molto dipende da noi, anche se tutto dipende dalla grazia di Dio, perché così funziona. E dentro questo orizzonte soprannaturale, l'orazione di quiete, sono le prime esperienze, poi c'è un autotreno, una valanga di esperienze e di fenomeni che culminano nel fidanzamento spirituale e nel matrimonio mistico. Oltre questo, nella vita di unione con Dio, astante i maestri e i dottori più autorevoli in teologia mistica che sono Santa Teresa Davide e San Giovanni della Croce, non si può andare. Ora, io vedo nella vita, nella divina volontà, mi si perdoni, fortissime analogie con questa descrizione di Santa Teresa. Cioè, c'è tutta una parte del cammino che è la prima parte del cammino in cui l'anima comprende, si rende conto della bellezza di questa vita, e questo lo fa attraverso le conoscenze, ecco perché Gesù dice sempre che la prima cosa è la conoscenza e è importante conoscere. Essendo allettata, innamorata, entusiasmata da questo mondo, che cosa succede? E comincia a dire voglio entrarci e fare le sue scelte. Dopodiché comincia piano piano a muovere i primi passi. Ci sono molti dei primi passi, specialmente quelli che dipendono anche dall'imparare a fare la volontà, dove l'anima deve molto operare, d'accordo? Deve molto operare certamente come è un'operazione che meglio sarebbe qualificarla a cooperazione perché è sempre una risposta ad una grazia ricevuta. Però c'è molto da fare sotto questo punto di moltissimo, d'accordo? Ecco, evidentemente anche in questo ambito si è rivelato un punto in cui le nostre povere forze per quanto coadiuate dalla grazia santificante oltre non ci possono andare. E allora lì questo è successo anche a Santa Teresa, anche a la serva di Dio Luisa Piccarreta, che a un certo punto ha avuto il dono soprannaturale dell'unione con la Divina Volontà. Dopo però ci ha lavorato per tanti anni insomma, sopra. Quindi questo per dire che siamo all'interno di un cammino, d'accordo? Noi l'unica cosa non dobbiamo chiederci nulla, d'accordo? l'unica cosa che dobbiamo fare come in tutti i cammini è camminare, anche qui come dire curiosare, cominciare a pensare come sarà, come non sarà, oppure le sciocchezze Gesù lo dice, dove arriverò, dove non arriverò, ci sono dei passi degli iscritti che abbiamo meditati dove Gesù dice questo è pensare a te stesso, d'accordo? Questo è preoccuparti di te stesso, tu non ti preoccupai tutto questo qui. Mano a mano che conosci, che comprendi sempre con calma, cerca di entrare sempre più e sempre meglio come diciamo nell'orazione introduttiva la meditazione in questo mondo, facendo quello che capisci, quello che hai capito fino adesso, quello che riesci, d'accordo? L'importante è camminare, d'accordo? Come nel cammino cristiano Dio non rivela, non dice nella rivelazione cose che non sono necessarie alla nostra santificazione, ecco, così in questo cammino non soddisfa curiosità che sarà, che non sarà, che mi succederà, che non mi succederà, ti dà le informazioni necessarie per andare avanti, e per camminare esattamente lì dove ti trovi, camminiamo, poi dove arriveremo? Il Signore lo sa, ecco, arriveremo al fatto che la Divina Volontà cristallizzi la nostra anima e tutto il nostro operato, e tutto il nostro operato si rifletta in Gesù? Magari che fosse, insomma, avremo coscienza di questa cosa? io non so rispondere, insomma, a questa domanda, no? L'importante è camminare, perché già dal camminare, quindi già dall'entrare in contatto con il mondo aureo della Divina Volontà, i benefici che si sentono sono davvero grandi. Ecco, ora attenzione però, ecco, il presupposto di questa vita sono alcune virtù, ecco, virtù che devono essere provate. A un certo punto Gesù dice una cosa che io ho detto tantissime volte in tanti interventi, uno dice verrà un momento in cui le creature vorranno disfare il creatore e vorranno avere un Dio a proprio conto, farsi un Dio a propria immagine e somiglianza, farsi una fede fai da te, quindi stravolgere quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo insomma sentito nel corso di tanti secoli e tuttora adesso dalla voce immutabile della Chiesa e rifare tutto a nostra immagine e somiglianza e qui parla anche, no? Giungeranno le più brutte bestialità, qui non si parla soltanto di bestialità, mi avviso intese come parla qui di violenze gli uni contro gli altri, di carneficine insomma che qui il secolo scorso diciamo che ha offerto una lugubre macabra e purtroppo vera però rassegna di questi brutti episodi ma anche il tasso diciamo così di abbrutimento dell'essere umano insomma ha servito oggi più che mai alle passioni più basse che certamente insomma non sono benedette da Dio quando sono passione intrinsecamente disordinate è certamente una realtà il problema proprio a mio avviso molto attuale ecco è che in questo abbassamento in questo disfacimento del creatore e rifacimento quindi di una fede a proprio uso e consumo si vorrebbe anche avere la benedizione di Dio e si cerca anche la benedizione e il patrocino addirittura di Dio e della Chiesa stessa cosa che non sarà mai e qui Gesù chiaramente esorta la fermezza il coraggio ai pochi buoni non si spostino in nulla non trascurino nulla quindi la fermezza non il coraggio non spostarsi neanche di una virgola d'accordo e questo si fa attraverso la fedeltà oggi insomma leggevo proprio stamattina un ampio stalcio dell'omelia di ieri ieri era il giovedì della terza settimana di Quaresima di Papa Francesco dove parlando del cuore duro e un cuore duro e chiuso parlava proprio di quelli che dicono insomma di credere nel Signore vanno anche a messa ma hanno dimenticato cosa significa la fedeltà la sola fedeltà dice Gesù non li farà traballare e saranno salvi cioè non basta sciacquarsi la bocca con il nome di Gesù non basta neanche fare alcune alcuni gesti religiose alcune pratiche religiose che vanno a messa la domenica corre essere fedeli a lui fedeli in tutto se rimanete fedeli alla mia parola dice Gesù nel Vangelo di Giovanni sarete davvero miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi fedeli a lui fedeli al Vangelo fedeli alla verità fedeli alla Chiesa fedeli a tutto ciò che impegna la nostra fedeltà di cristiani e di discepoli di Gesù è evidente che queste forme di fedeltà fanno parte della vita nel divino volere non dobbiamo immaginare la vita nel divino volere come una specie di mondo a parte come dire alternativo o che si giusta pone diciamo così essere fedeli è divina volontà essere fermi coraggiosi nel bene essere pronti a non spostarsi quindi e a non trascurare nulla nei Vangeli dei giorni scorsi Gesù diceva chi osserverà questi miei precetti anche minimi non trascurare nulla sarà considerato grande nel regno dei cieli chi invece li trasgredirà e insegnerà agli altri a fare altrettato sarà considerato minimo è evidentissimo che queste cose sono parte integrante della vita nella divina volontà è evidentissimo quindi il Signore ci aiuti a stare sempre come dire agganciati alla grande diciamo così al grande al grande mondo al grande chiamiamolo polmone insomma la grande chiamiamola anche tradizione in senso buono quindi la tradizione con la T maiuscola ecco della Chiesa a cui sempre dobbiamo mantenerci fedeli quindi attenzione ecco a non cadere mai in questa tentazione e a non dare mai per scontati che non ci siamo caduti no? ecco l'ultimo paragrafetto ecco ci dice una cosa molto importante ancora no? lo commentiamo insieme ciò che io contengo nella potenza l'anima lo contiene nella volontà attenzione sicché tutto quel bene che veramente vuole fare io lo guardo come se in realtà l'anima l'avesse fatto attenzione onde io ci tengo volere e potere se voglio posso invece l'anima molte cose non può ed il volere supplisce al potere e così va somigliando a me ed io vado arricchendo l'anima di tutti quei meriti che contiene la sua buona volontà e che vuol fare la sua volontà attenzione non è che vuol fare la sua volontà nel senso che vuol fare la sua volontà in senso negativo cioè che contiene la sua buona volontà e che volontariamente vorrebbe o vuole fare questo è molto importante quindi e attenzione che il Signore guarda sempre perché peccato e virtù insegnava già San Tommaso d'Aguino si trovano nella volontà davanti al Signore conta quello che io voglio fare anche ammesso che non ci riuscissi a farlo capito perché per noi volere non è potere dice Gesù cioè volere è potere in un senso molto molto analogico nel senso che sicuramente se una cosa non la vuoi non potrai farla ma tu puoi anche volere qualche cosa che non hai la possibilità di farla cioè soltanto Dio tutto ciò che vuole lo può ma non tutto ciò che può vuole l'abbiamo detto tante volte per noi non è così si può fare un esempio di una grossolanità estrema Gesù ne parla anche negli scritti io voglio andare a messa tutti i giorni ma evidentissimamente le circostanze concrete della mia vita non mi lo consentono e io non posso andare a fare uno strappo in certe circostanze quindi andare a creare dei disordini anche in vista del poter fare una cosa tanto buona come la partecipazione alla Santa Messa ecco ma questo non conta perché se tu vuoi andare alla Santa Messa è come se ci fossi andato non è uno scherzo questo è realmente così e che cosa succederà? succederà che quando si creeranno le condizioni per cui a messa ci potrai andare d'accordo? certamente a messa ci andrai perché la cosa importante non è poter fare certe cose ma è volerle fare così noi non possiamo cambiare il mondo d'accordo? non lo possiamo fare ma possiamo pregare giorno e notte perché il mondo cambi possiamo volere che la divina volontà venga a regnare in me e sul prossimo e possiamo fare quello che possiamo appunto in vista di questo fine ecco e questo è molto importante attenzione a quello che dice Gesù quello che io contengo nella potenza l'anima lo contiene nella volontà quindi il fondamento della nostra potenza è la nostra volontà perché realmente la vita nostra va dove noi la vogliamo ma andare non altrove va dove la vogliamo mandare non altrove e quindi Gesù chiude questo paragrafo dicendo quando l'anima si dona tutta a me io vi stabilisco la mia dimora e poi dice una serie di cose no? molte volte mi piace di chiudere tutto e starmi all'oscuro altre volte mi piace dormire e l'anima metto come sentinella finché non faccia venire a nessuno a molestarmi e rompere il mio sonno eccetera eccetera altre volte mi piace da bere tutto e far entrare i venti le freddezze delle creature i dardi delle colpe che mi mandano a tante altre cose l'anima deve essere contenta di tutto deve farmi fare ciò che voglio anzi deve fare sue le cose miele abbiamo visto questa è una meditazione dei giorni scorsi quando si crea questa fusione alcune cose che ci accadono quindi alcuni stati d'animo che ci sembrano ai nostri in realtà sono riverberi di quelli di Gesù cioè mi sento in un certo momento afflitto addolorato e magari il nostro Signore mi sta facendo sentire i dardi che le colpe delle creature gli mandano al suo cuore tu non lo sai questo qui non lo sappiamo almeno sicuramente non nelle forme ordinarie di fusione con la divina volontà ma è così e quindi se tu hai questo intento se tu hai questa intenzione se tu hai questa volontà se tu vivi in modo da fare quello che puoi per entrare in questo splendido mondo non ti devi puoi lecitamente pensare che forse quella cosa che stai vivendo è un riverbero della vita di Gesù in te forse mi raccomando sempre come dice San Paolo procedere sempre con cautela con timore tremore bando ad ogni minima forma di superbia o di pensiero la vita di Gesù sta in me quindi o che ci fanno pensare di essere chissà che o chissà che cosa un minimo pensiero di questo significa uscire immediatamente dal divino volere ecco e questo è come abbiamo già visto nei giorni scorsi un effetto tanto maggiormente presente quanto come abbiamo visto aumenta il nostro grado di unione con la divina volontà abbiamo visto quindi è un percorso è un cammino che ha delle tappe di clamoroso arresto come quando uno esce grossolanamente dalla divina volontà mancando di fedeltà mancando di coraggio mancando di perseveranza cedendo alla tentazione di farsi un dio a propria immagine e somiglianza o una come dire dottrina strampalata insomma e che non ha niente a che fare con quello che ci è stato trasmesso da Santa Madre Chiesa e viceversa c'è una progressiva crescita nella vita nel divino volere tanto quanto l'anima vuole e si indirizza verso ciò che riconosce essere bene anche qualora non avesse la possibilità materiale di poterlo mettere in atto sappiamo la potenza che hanno gli atti interiori gli atti di fusione i giri e tutte queste cose che da un punto di vista operativo non comportano nulla di percepibile di materiale ecco di divisibile di produttivo diciamo così però da un punto di vista sopranaturale producono effetti straordinari di grazia su noi e su tutti grazie grazie Bene, Santa Vergine Maria, prendici per mano e conducici tu piano piano in questo splendido cammino dove la nostra unica occupazione, più che preoccupazione come abbiamo visto è semplicemente quella di camminare abbandonandoci completamente alle vostre mani senza desiderare di conoscere e sapere ciò che non è necessario ma occupandoci dell'unica cosa importante che è quella di crescere giorno dopo giorno attraverso la nostra unione, attraverso il discernimento attraverso tutto quello che abbiamo imparato, gli atti, ecc in questa bellissima vita sapendo che si progredisce con poco e si regredisce anche con poco presi per mano da te fa che il nostro cammino, dovunque ci porti sia un cammino in crescita continua e costante nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Fiat Ave Maria Grazie